sognare si può buongiorno eccoci qua con il nostro appuntamento facciamo il punto con il ragioniere giuseppe imperato con il quale cerchiamo sempre di provare a dare qualche buona notizia ma purtroppo buone notizie non ce ne sono in realtà la situazione non cambia sempre abbastanza uguale da un giorno da una settimana all'altra da un mese all'altro rimaniamo stazionari non vedo sempre dei movimenti positivi è quello che ci si aspetterebbe diciamo così in una situazione un po diciamo molto abbastanza ormai abbastanza approvata molto molto stagnante per quanto riguarda la ritengo la crisi economica che il dottore in atto non solo in italia ma in diversi tutto in tutto il mondo per questa a meno in europa per questo anche in america per questa inflazione in america soprattutto hanno un'inflazione forse il doppio dell'europa e quindi quindi l'inflazione che genera aumento di prezzi e quindi a sua volta crisi stagnante generalizzata per tutti i settori per la mancanza di risorse quindi mancanza di risorse vuol dire meno investimenti vuol dire crisi diciamo di un po di tutti i settori ma soprattutto che si ripercuote poi sulla sulla popolazione perché ovviamente i mezzi finanziari vengono a mancare l'aumento di prezzi a proposito di mezzi finanziari quindi di finanze e dei soldi parlavamo proprio un attimo fa prima di cominciare la trasmissione del dell'aumento comunque del costo del denaro che sicuramente non è una buona notizia perché sono tutti coinvolti basti pensare che già a livello privato quindi ma già da tempo già da tre quattro mesi per esempio il solo fatto che i mutui sono aumentati per lo meno tra il 20 e il 30 per cento la rata mensile aumentata tra il 20 e il 30 per cento rispetto a quello che si pagava tra fine anno e inizio anno 23 e poi anche l'aumento generalizzato un po dei costi del soprattutto delle materie prime del un po anche dei servizi e di quant'altro e quindi che genera quindi l'inflazione fa sì che quindi aumento dei mezzi finanziari quindi dall'altra parte diciamo controbilanciato dal fatto di questo aumento dei tassi che in qualche modo però crea delle condizioni di diciamo di contrazione dell'attività produttiva e quindi anche del mercato dei consumi assolutamente un saluto a Guido Savan ciao che ci sta guardando un saluto naturalmente a tutti i nostri amici dell'angolo del confronto e a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno naturalmente come sempre se volete fare le vostre domande abbiamo a disposizione un consulente che possa comunque darci qualche risposta qualche come dire qualche chiarimento quantomeno perché purtroppo diciamo che le risposte sono questioni specifiche sì esatto diventa poi difficile perché la normativa gli argomenti che noi trattiamo un po' più o meno sono non dica sì alla portata ma comunque all'informazione di tutti perché queste sono il diciamo la cronaca quotidiana ecco voglio dire del perché comunque le difficoltà della vita quotidiana si sono quelle che poi affrontiamo affrontiamo tutti e comunque impattano soprattutto soprattutto io ritengo quindi sulla popolazione ma anche sulle imprese un po' su tutti esatto quello che abbiamo riscontrato o che sentiamo adesso al di là del fatto che con la morte di Berlusconi per un qualche giorno abbiamo avuto una sorta di blackout sulle informazioni cioè quella era la notizia però di fatto la situazione è stazionaria nel senso che ciò che noi abbiamo rilevato come si diceva anche fuori onda è che ci viene comunicato che la situazione economica migliora però di fatto non vediamo tutti questi miglioramenti assolutamente no perché soprattutto nel mio lavoro lo vedo anche tra i clienti vedo che c'è delle grosse difficoltà diciamo a gestire ad andare avanti più che altro quindi si sta molto attenti alla quindi intanto allora intanto investimenti nuovi non se ne fanno parliamo a livello piccolo quindi investimenti nuovi non se ne fanno perché non ci sono le risorse con quello che si si incassa si riesce a malapena a diciamo a coprire il fabbisogno quotidiano e la gestione mensile e annuale delle attività quindi non è quello è quello delle terie negative che gli investimenti comportano quindi aumento della produttività aumento anche dell'occupazione quello che non c'è quindi noi comunque siamo tornati in tempi non ne parliamo della disoccupazione siamo siamo intorno al 12 13 quindi per cento quindi non è che ovvio perché non eppure io dico si avrebbe ritengo forte necessità soprattutto nel nel nell'ambito pubblico l'ho costato dal fatto che ancora oggi dopo tre anni di quindi di dopo l'inizio della pandemia siamo ancora almeno per quanto riguarda il mio lavoro per gli uffici che io diciamo frequento tutti i giorni siamo ancora al fatto che la gente debba prenotare i servizi e recarsi personalmente dietro la prenotazione quindi con diciamo con molta perdita di tempo e anche molta difficoltà nel seguire la scadenza perché parliamo di una scadenza imminente che sarebbe quella della rottamazione ancora oggi se si va all'agenzia entrata in discussione si vuole sapere la propria situazione intanto l'appuntamento te lo fissano dopo due tre giorni o un giorno forse anche un giorno dalla data di però uno per volta ecco quindi noi per esempio noi come professionisti non possiamo gestire questa diciamo questa situazione ci si avvale un po' delle delle sì un po' dell'informatica però c'è anche tanta gente che non ancora oggi soprattutto parliamo di anziani parliamo di pensionati che non hanno il possono avere la possibilità o è nella capacità di usare un pc e quindi devono per forza di cosa risolvere rivolgersi a un caff a un padronato o a un professionista e la cosa è abbastanza diciamo anche ritengo anche un po' ingiusta per quanto riguarda soprattutto io mi metto nei panni dei pensionati eccetera che mentre prima ad esempio ricevevano il loro cud della pensione puntualmente dall'inps tramite lettera lettera nemmeno raccomandata ad oggi se il pensionato vuole fare la 730 o l'unico deve o recarsi presso un caff oppure dotarsi dello speed quindi appoggiarsi a qualcuno che abbia un pc dotarsi dello speed e scaricarsi questo modulo della sì questo è assolutamente vero diciamo che senza questo non è giusto questo non è da anni che io lo predico è una questione di profonda ingiustizia secondo me perché penso che non ci sia niente di particolare niente di così diciamo oneroso anche da parte dello stato di inviare ai pensionati come si faceva 10-12 anni fa il proprio cud attraverso la posta ordinaria ecco quindi poi tra l'altro si fanno si 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 spende soprattutto nei servizi di notifiche si spendono milioni e milioni perché per notificare atti e altre cose che a volte sono anche non diciamo non è che portano dei vantaggi specifici o immediati mentre invece questo che sarebbe chiamiamolo un servizio pubblico soprattutto a favore dei pensionati non viene non viene svolto o comunque è stato dismesso da più di 10-12 anni quindi io per esempio che faccio le dichiarazioni dei 730 qualche pensionato devo vabbè vengono da me noi attraverso il precompilato attraverso la la chiavetta riusciamo ad entrare però ovviamente sono tutti sforniti di 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 del 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 ciu e questo è già una diciamo una grossa limitazione ma l'altra limitazione soprattutto è quella che molte volte mi io penso che anche tanta gente è convinta di essere a posto di non dover più nulla eccetera eccetera non è la prima volta che mi trovo scoprire che abbiano dei debiti casomai contratti notificati anni e anni fa perché una volta che le amministrazioni hanno notificato un atto ingiuntivo per il pagamento di un debito erariale tributario che sia hanno acquisito il diritto alla alla sua diciamo diciamo escursione alla sua al suo pagamento quindi a volte ci si ritrova dopo anni e anni e molte volte il cittadino ignaro e impreparato perché non 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 ha ricevuto le notifiche oppure non è dotato di questi di questi ultimi mezzi che sono che possono essere lo speed ma capisci bene che un anziano cioè ci sono ritengo che io parlo per me però io vedo che non tutti hanno questa capacità di esatto esatto questa è verità io anche dei pensionati che si sono si 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 dilettano di informatica per modo di dire o comunque si sono informati un po alla buona parte diciamo è ancora al è ancora infatti mi chiedono ma il cutto non mi è arrivato detto non ti arriverà mai certo ci sono delle situazioni che non accadono più molte molte volte io me la sento rivolgere questa 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 domanda e io gli rispondo ci guarda che saranno sono 12 13 forse 15 anni che non ti arriva più perché bisogna scaricarlo dal dms eccetera eccetera quindi questa è abbastanza limitativa e riduttiva quello che trovo ancora limitativa e riduttiva il fatto che ripeto al ridosso di questa scadenza le esattorie continuano a fare fissare un appuntamento al giorno ma meno per noi però alle persone che comunque in qualche modo potrebbero diciamo oppure potrebbero avere interesse ad aderire alla rottamazione diciamo a diciamo a regolamentare secondo me in modo assurdo questo 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 afflusso presso gli uffici non c'è più ragione ecco non vi è più ragione di limitare gli accessi agli uffici pubblici e quindi non lo so potrebbe essere questo può essere anche un può essere anche diciamo abbastanza capzioso nel ma misura in cui ripeto io ci si può trovare e succede molto spesso di fronte al cittadino ignaro che dopo anni e anni si vede casomai notificato una cartella oppure un invisto di intimazione a che gli che gli intima di per di versare i cinque giorni qualsiasi sia essa sia la città e quindi e quindi te ne va in paranoia totale perché non si è ci sono una o non si è a memoria oppure non si è convinti di aver fatto diciamo il proprio dovere già anni anni fa e questo è abbastanza diciamo un po è problematico e certamente la gestione non è facile anche perché appunto io ritengo che questa è perché io ritengo che questo per durare perché non ha fino al 20 noi praticamente si accedeva agli uffici liberamente sì ci saranno state le code però erano abbastanza regolamentato dopo il 20 c'è stata questa riduzione di afflusso eccetera io la potrei ascrivere poi non lo so tanto questo non te lo dico al fatto che alla riduzione perché può darsi di personale o gente che va in pensione presso gli uffici e quindi loro non vengono rimpiazzati che io ho memoria non vi sono proprio concorsi diciamo tutti i giorni eppure forse nell'amministrazione pubblica ce ne sarebbe bisogno per soprattutto per gestire diciamo queste pratiche al pubblico io direi al pubblico poi casomai le persone che sono lì da più anni che hanno più esperienza possono parlo dal mio punto di vista possono gestire le pratiche all'interno per la parte che sia di accertamento eccetera eccetera però al pubblico fornire il servizio al pubblico attraverso diciamo nuove nuove leve che hanno solo il il compito di informare e di effettuare proprio il servizio al pubblico che va dovrebbe andare regolarmente a fluire regolarmente agli uffici pubblici per giustamente per per acquisire documenti per 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 chiedere informazione e quant'altra si assolutamente ritengo che effettivamente questo sia sia una problematica perché è già piuttosto difficile per chi ha un po più di dimestichezza avere a che fare gestire chi è in attività più o meno se l'aspetta ma io ho avuto diversi casi di persone che dopo aver cessato l'attività ignare per carità poi può essere colpa carità non è che bisogna siamo qui però in ogni in qualche caso ripeto dopo anni anni di casomai di inattività oppure pensavano di aver cessato l'attività o comunque pensavano di aver chiuso in bonus nel senso di non avere più pendenze di vedersi ricapitare qualche intimazione e scade il termine esempio pratico scade il termine del 30 giugno non puoi più aderire alla rottamazione sì esatto il problema è morsi sì anche perché però non l'avevo previsto però come si fa per carità dovrebbe essere dovrebbero essere ecco da questo punto di vista soprattutto per le partite più vecchie dovrebbe essere secondo me lo stato stesso vista la ormai l'informatizzazione diciamo diffusa che c'è in tutti gli uffici a inviare una line oppure anche per chi non possiede anche solo una lettera normale o comunque una comunicazione sul se si ha la posta se si ha la mail ma se non si ha la mail una lettera normale dove dice a noi risulta che ne so una cartella oppure una pendenza di 10 anni fa di 15 anni perché poi a volte succede perché ripeto quando lo stato ha notificato nei termini un atto diciamo impositivo certamente nei dieci anni deve esercitare il diritto alla risposta la prestazione comunque esiste sì deve nei dieci anni però molte volte sai loro ci provano lo stesso nel senso che hanno acquisito il diritto alla riscossione e si possono presentare anche al decimo anno ecco voglio dire certo certo è uno poi considerando che soprattutto nel nostro settore considera che adesso allora gli interessi sono per tanti anni cubano forse quasi alla quasi alla metà del capitale dovuto e considera che ultimamente è un altro effetto dell'inflazione che gli interessi legali oggi dal primo gennaio 23 sono al 5 per cento quindi tutti gli atti che partono dal dal primo gennaio 23 solo di interessi insomma cubano una bella cifra sommando anche gli interessi che vengono dalle dalle annualità precedenti ma comunque siamo quindi dal 5 per cento è una bella botta è sicuramente sì una cifra passare dagli interessi dall'uno all'uno e mezzo al 2 o allo 0 5 degli anni diciamo di deflazione quindi degli anni di 5 6 10 anni fa passare al 5 e considerando che anche forse il 2000 all'anno scorso non so se erano l'anno scorso mi sembra che fossero stati 3 quindi si è passati al 3 al 5 quindi capisci che il balzo è diciamo è oneroso e comunque importante per un po per tutte le situazioni debitorie che che ci sono in giro esatto questo e poi torno vorrei tornare un attimo sull'aumento del costo del denaro che che implica il fatto appunto come dicevamo inizialmente che chi ha contratto un debito un mutuo mutuo aumentato dal 20 al 30 come dicevamo ha avuto se non è stato diciamo si si è a tasso fisso no se non ma con un tasso variabile col tasso variabile c'è un aumento tra il 20 e il 30 per cento che voglio dire in una situazione che già è diciamo economicamente difficile è pesante effettivamente quindi un mutuo da mediamente un mutuo da 500 euro adesso paghi sui 600 6 e 10 6 e 20 di rata mensile quindi siamo sul 20 bilancio familiare anche un discorso di questo genere qui comincia a essere effettivamente piuttosto pesante quindi questo poi si è trascinato anche i mutui sui veri finanziamenti anche i finanziamenti chilografi o finanziamenti delle attività e fino a qualsiasi tipo di finanziamento si capisce quello che impatta maggiormente sulle famiglie è il classico mutuo fondiere per l'acquisto dell'immobile è quello è quello oggi è diventato oneroso perché l'aumento è quello è una notizia molto recente no ce l'abbiamo sentita proprio in questi giorni ed è quella che ha ancora aumentato del quindi forse il prossimo mese ci sarà un ulteriore ritocco perché quelle banche si adeguano subito immediatamente il giorno dopo si adeguano e quindi il ritocco l'ha fatto 0,25 l'hanno fatto tre giorni fa vedrai che alla fine del già forse alla fine del mese di giugno o chi ha in scadenza a luglio forse già alla fine di giugno saranno già adeguate rispetto alla rata di maggio poi ti saprò dire la prossima volta di sicuro di sicuro le banche si adeguano subito e questo dicevamo è sicuramente un altro macigno ecco che che incombe su quello che è il bilancio familiare di una famiglia con un reddito medio ecco no 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 parliamo di un reddito d'assistente esatto un reddito medio medio basso che poi voglio dire mediamente sui 1.500 e 1.600 esatto calcolando poi il fatto che fino a qualche tempo fa comunque con uno stipendio medio si vivacchiava tutto sommato oggi purtroppo con gli aumenti a 360 gradi che abbiamo subito per tutta una serie di problemi contingenti e comunque creano effettivamente difficoltà nell'arrivare a fine mese e comunque dall'altra parte c'è comunque e quello c'è sempre una grossa percentuale che aumenta sempre di insoluti sui mutui poi anche lì il solito discorso che si va avanti però mentre con lo Stato c'è almeno da quel punto di vista anche se ti ficcano l'ipoteca sulla prima sulla casa dove abiti non la pignora non ti sfrattano tra virgolette la banca sì perché la banca essendo un ente privato a un certo punto dopo un tiro e molla o comunque dopo un certo periodo di insoluti in qualche modo la casa poi della pignora e quindi anche lì ti crei ulteriori e gli spratti sono aumentati diciamo esponenzialmente dopo dopo l'aumento sia per quanto riguarda gli affitti ma anche per quanto riguarda il discorso delle esecuzioni immobiliari per 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 diciamo in attempienza sul pagamento dei mutui poi in attempienza nella maggior parte dei casi non voluta perché certo la situazione diciamo è precipitata a sfavore del del popolo del del cittadino l'unico settore uno dei pochi settori che sembra comunque come si diceva in grandissima ripresa dopo il blocco della della del dovuto al covid è il turismo e io ritengo che è lì che parte il pill e basta perché diciamo da questo punto di vista il del paese italia perché come ho già detto altre volte e io lo so non perché lo so perché sono 45 anni che sono e quindi dal punto di vista produttivo dal punto di vista manifatturiero arte le eccellenze a parte delle regioni tipo che non so il veneto le marche dove ci sono ancora delle aziende con delle celle che fanno il cosiddetto made in italy veramente diciamo certo importante ma parliamo del pio parlo del piemonte ad esempio le realtà industriali sono scemate del tutto per me quindi certo è una cosa quindi questo non fa che muocele al tutto il sistema ecco perché per fortuna che c'è abbiamo il turismo o il commercio che in qualche modo si viene in aiuto il commercio anche lì c'è l'indotto del turismo che quindi sono i servizi di quindi ristoranti pizzeria eccetera eccetera trasporti trasporti si da proposito dei trasporti per esempio una delle novità è che il discorso dei voli low cost no quindi non ci sono più fondamentalmente non ci sono più no e beh certo perché c'è l'aumento della domanda ovviamente per sì che esatto no quindi anche questo aspetto è venuto meno anche nell'ambito territoriale nell'ambito territoriale quindi delle località turistiche tu hai comunque anche lì i noleggiatori tassisti coloro che ho pure i pulmini eccetera eccetera sono super impegnati già dal mese di aprile fino a ottobre ecco voglio dire quindi quello è un settore e sono tutti rappresentati da o da piccoli piccole realtà diciamo individuali oppure da società che ormai la maggior parte piccole società o società di medie dimensioni che svolgono questi servizi nel paese nella regione nella provincia in favore dei turisti ecco quello anche quello quindi c'è c'è la parte diciamo dell'alberghiero ristorazione e la parte indotto quindi anche quello contribuisce io ritengo grandemente ma se parliamo dal punto di vista industriale dal punto di vista manifatturiero per me c'è una decadenza non un aumento sì 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 in effetti ha subito un forte fortissimo rallentamento se non addirittura uno stop no anche perché le attività quelle attività non le svolgono più le attività soprattutto industriale un po pesanti quelle che per esempio io avevo memoria di quello che si faceva qui in provincia di torino soprattutto nel canavese dal punto di vista industriale è tutto trasferito in serbia in polonia e nei paesi diciamo low cost ecco voglio dire rispetto alla nostra ma sempre per un discorso di costi no poi c'è alla fine però per ridurre i costi però per ridurre i costi vengono meno i posti di lavoro qui sul territorio quindi ecco che insomma ci sono tutta una serie di problematiche che ci sono questi diciamo sconvolgimenti diciamo caratteri sociali che comunque sono conseguenza del della riduzione del lavoro di determinati settori o comunque della scomparsa di determinati settori produttivi e col fatto che per esempio anche sull'icolo industria torino praticamente è diventata città industriale grazie anche all'apporto di tanti conterranei nostri diciamo dal meridione e adesso parecchi di questi sono ritornati giù però non è che è come quando sei venuto 50 60 anni fa quindi hanno dovuto di nuovo casomai di affrontare certo e ripartire da capo dopo una vita diciamo passata qui senza senza aver poi concluso tra virgolette nulla ecco si diventa in effetti poi c'è anche un altro discorso magari l'affrontiamo nella prossima puntata visto che il nostro tempo sta scadendo ma è anche quello del fatto di rimettersi in discussione proprio a caso dei dei tagli dei posti di lavoro ma io adesso non è più forse la volta a 60 anni si era già adesso a 50 anni ci si rimette pure più di 50 si diventa problematica perché è lato sì perché diciamo che la pensione lontanissima la pensione lontanissima e sarà sempre e attenzione non voglio scoraggiare e io ritengo perché è anche lì è una legge matematica o comunque una situazione diciamo abbastanza evidente che mancando il tessuto industriale quindi da una parte abbiamo mancanza di nascite nascite zero eccetera eccetera dall'altro non abbiamo questo sviluppo industriale così diciamo vivace e florido come era circa 30 anni fa 40 anni fa industriale dei servizi del commercio eccetera se non in alcuni settori quindi non c'è un ricambio e quindi ritengo che anche questo è un argomento scottante è un argomento abbastanza che però purtroppo bisogna in qualche modo cioè bisogna ognuno che ognuno ne tenga conto e tenga presente e considerando le situazioni attuali di vita fosse anche una pensione che raggiunga adesso il 1400 1500 1300 poi dipende non è diciamo sufficiente per se uno rimane in città oppure si non riesce a stabilirsi da qualche altra parte o comunque ha ancora degli impegni ancorché pensionato non riesce a soddisfare le esigenze diciamo quotidiane certo di vita esatto bene il nostro tempo è terminato noi ci diamo appuntamento fate domande a venerdì prossimo esatto aspettiamo le vostre domande per poter diciamo affrontare delle tematiche siamo così siamo più in tema e più attuali ecco voglio dire più certo assolutamente noi vi ringraziamo vi ringrazio auguriamo un buon weekend e alla prossima settimana arrivederci